Allora, prima parliamo delle cose un po' d'insieme, un po' complessive, poi magari parliamo dei singoli. È chiaro che ciascuno di noi è legato alle cose che pensa, alle cose che dice, a quello che ha detto quello, a quello che ha detto l'altro, i singoli giocatori, le singole cose, ma proviamo per un attimo a pensare che cos'era il Milan alle 11 di ieri mattina, alle 11 del mattino del 22 settembre. Nel suo complesso il club, perché sapete che noi pensiamo soltanto ai segmenti delle partite, ma il club va fotografato a volte nel suo complesso per capirne la portata, la potenzialità, la prospettiva, la visione, il futuro. Ieri mattina alle 11 avevamo una squadra primavera che non vinceva il derby di campionato contro l'Inter da praticamente sette anni. Avevamo una squadra femminile, una prima squadra femminile, che nelle prime due giornate di campionato aveva fatto zero punti. E avevamo la prima squadra maschile attesa a San Siro dal derby grande evento, dopo tutto quello che ci è capitato, tutta la serie di trambate che ci sono capitate addosso, diciamo, dal Milan-Liverpool in poi, ma con un pregresso evidentemente, non tanto Torino e Lazio quanto Parma, quanto Parma, che è la partita che oggi pesa, pesa di più, Torino e Lazio stanno facendo un'ottima stagione. Alle 11 di ieri mattina eravamo queste, e insomma, eravamo tutti in sofferenza, preoccupati, tesi, ma uniti, compatti. Riguardando i video della scorsa settimana, massimo supporto a Mr. Fonseca me lo tengo stretto, oggi. E anche i video del sabato, in cui credo di aver raccontato dal punto di vista umano la conferenza stampa della vigilia, del nostro allenatore in cui ci aveva detto tutto quello che sarebbe accaduto il giorno dopo. Mi spiace, ma anche nei momenti difficili io non riesco a chiudermi e a dare la palla all'avversario. E infatti ieri ha avuto tanto possesso palla. Poi avevamo tre derby, tutti e tre in casa dell'Inter. Inter in questo momento società dominante, Inter in questo momento società all'avanguardia, la squadra reduce da una prestazione di grandissima sostanza e di grandissimo spessore sul campo del Manchester City. E noi ci siamo messi lì, sotto il fuoco di fila delle critiche, dentro lo scetticismo. Leggevo vari commenti. Ah, tutti criticano Fonseca, ma lei in perterrito continua a difendere Fonseca. La vita non è semplice, forse all'esterno ci sono tante idee strane, ma non è semplice la vita. E ci siamo messi lì. Derby primavera, l'Inter era partita meglio. Poi però salta di testa Matteo Dutu. Pensate, una domenica in cui tre derby, tutte e tre in casa dell'Inter, tutte e tre da sfavoriti. Il primo gol dei tre derby lo segna un Matteo, Matteo Dutu, centrale della nostra primavera. E l'ultimo gol lo segna un altro Matteo, Matteo Gabbia, centrale della nostra prima squadra. Da Matteo Dutu a Matteo Gabbia. Dentro, sei gol, sei emozioni, tre derby. Che hanno riscattato tutto il club. Perché il derby primavera, intanto, non è soltanto il fatto che ha segnato Maximilian Ibrahimović. Rispetto al quale qualcuno dovrebbe rimpicciolirsi così. Dietro il lavoro della nostra primavera c'è la società, Vincenzo Vergine, spostabile al settore giovanile, tutto il club, tutta l'area tecnica, tutto il club. E c'è Federico Guidi. E la nostra primavera è sempre stata allenata dai grandi. Franco Baresi, Filippo Galli, Mauro Tassotti, Vani, Zaghi, Gattuso, tanti grandi. Federico Guidi non ha mai giocato nel Milan, non ha mai... È sempre stato solo allenatore, è iniziato a fare allenatore quando aveva 23 anni. E questa è una bella anomalia, una bella gavetta che porta il Milan a rivincere il derby primavera in campionato e a vincerlo bene, 3-1, autorevolmente, giocando, segnando, avendo sempre in mano la partita. Poi le nostre ragazze. Con Susan Bacher, la nostra coach, che aveva raccolto 0 punti le prime due parite, mentre l'Inter ne aveva raccolti 6. All'Arena Civica era pronta una festa nera azzurra, poi è stato molto bello, molto bella l'organizzazione dell'Inter, devo dire, con tanta sensibilità e all'Arena Civica c'era un bellissimo colpo d'occhio. L'Inter stava vincendo, 1-0, e poi Emeline Laurent, nazionale francese, in Francia il calcio femminile è ad assoluta avanguardia, si alza e di testa, come Matteo Duttu e come poi Matteo Gabbia, segna il gol del pareggio. Non ha vinto la nostra squadra femminile, ma è come se lo avesse fatto, perché in quel momento, in quella circostanza, in quella situazione non era semplice. E poi arriviamo al derby di San Siro, vittime sacrificali, facce da patibolo. Io stesso non mi nascondo dietro un dito, io avevo una faccia da patibolo ieri, perché evidentemente consideravo anch'io ineluttabile, avevo apprezzato che il mister non si fosse consegnato all'inerzia del prepartita, cioè il mister ha deciso di non andare verso il derby facendo cose normali per non disturbare i manovratori della narrazione. Paolo Fonseca è andato verso il derby sfidandolo. Quando sei nei guai, fai l'azzardo massimo, ha scritto Paolo Condò, come sempre top, sullo spirito con cui Paolo Fonseca ha scelto la formazione iniziale del derby. E siamo messi lì, siamo messi lì. Noi non segnavamo per primi in un derby, non so da quanto tempo ragazzi, probabilmente dal derby di Ibra, dall'ottobre del 2020, perché anche quando abbiamo vinto il derby di Giruola l'ha segnato prima loro. E Pulisic segna subito, Pulisic è uno dei, ma ne parliamo dopo di singoli, è uno dei grandi sottovalutati di questi mesi. E poi, attenzione, abbiamo battuto un'Interforta, che non si dica che siccome lì, noi abbiamo costretto l'Inter con le scelte del nostro allenatore, con il sacrificio e l'applicazione dei ragazzi, che adesso hanno capito cosa si prova a fare una partita seria. A me fa piacere che Raffaele Aue, Fofanà, scherzosamente, rispettosamente, abbiano messo sopra la banderina del calcio d'angolo con lo stema dell'Inter la maglia rossonera come aveva fatto Teurama ad aprile. Però, ecco, se si giocano partite serie, applicate, diligenti, coscienziose, umili, intense, continue, poi si provano quelle sensazioni lì, questo deve rimanerci. Il Milan ha costretto un Inter molto forte a giocare una partita strana. Io ero convinto che loro, avendolo saputo il giorno prima di Ebram Morata, avessero già trovato le contromisure. Invece no. Tant'è che gli abbiamo fatto densità a centrocampo, grazie all'apprezzazione di Fofanà e Reinders, meravigliosa, e Simone Zaghi ha dovuto cambiare tutti i centrocampisti a un certo punto, perché voleva provare a cambiare l'inerzia, a cambiare le cose, a mettere freschezza. Simone Zaghi che dopo la partita è stato molto, molto, molto corretto. Il Milan ha vinto meritatamente, punto. E quindi io queste cose le apprezzo molto. Ieri è stato un derby di Milano. Massimo tifo, massima rivalità, massima detestitudine, perché senza mai trascendere, senza mai degenerare, ci detestiamo. Noi detestiamo loro e loro detestano noi, però alla fine episodi arbitrali zero, proteste arbitrali zero, Morata ha acceso un po' di scintille perché lo faceva anche con quelli del Real Madrid e quindi è un ulteriore attestato alla forza attuale dell'Inter, però abbiamo giocato a pallone. L'Inter è forte, poteva chiudere il primo tempo in vantaggio. Lautaro Martinez, come dicevo ieri, era un giocatore strapitoso, però noi poi alla fine, nonostante loro fossero forti, abbiamo macinato, tritato, dominato e alla fine vinto meritatamente. L'abbiamo vinto perché siamo stati uniti e compatti e ci siamo riconosciuti tutti nel tono, nelle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic prima della partita. E diciamo che è stato un unico blocco di granito il Milan. Milan, al mattino con la primavera, primo pomeriggio con le nostre atlete e ieri sera al derby di San Siro. E quando si è tutti uniti il Milan nuota nel suo mare, nuota nel suo habitat e i risultati arrivano. Più tardi.